...eppure ho un testo che parla di un testo. Suttano cannoni, ci sono diverse tesi, il cannone può essere la torre cannonaria, un castello. Il cannone può essere anche una grande canna, il morto che muore sotto una canna potrebbe essere anche molto più credibile, cannoni ce n'è di tutti i tipi, noi non possiamo pensare come un altro, ma sono preso un testo sotto un cannone, sono stato curioso, ho potuto chiedere, che fai qui? E' il morto che senza serpultura, non avuto la fortuna di venire in queste fosse, è rimasto lì fuori a testimonianza di questo abominio. Pag. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.